Ok, direi che siamo live. Lo scopriamo a breve. Ma come play? Come play? Non è vera questa cosa? Come fa a rigiocare lo stesso Seed? Sto cadendo nel vuoto. What the fuck is happening? Ehi. Ah. Vedo, vedo, boh. Vedevo strutture, dirà. Oh, oh, oh. Stanno caricando delle cose. Perché io non mi posso muovere in avanti? Perché sto sbagliando tasti, ovviamente. Ah, mi sta ricaricando tutto come se fossi quella modalità strana. Ok, ho capito. Ok. Eh, no. Decisamente no. Create new world. Let's go for two. Cerchiamo di non morire subito questa volta. Eh, sì. Questa roba non la conosco, quindi vai. Create new world. Oh, estrema calma. Bene, mentre vado a prendermi dell'acqua. Sì. Ok, sono tornato prima che finissi. Mmm. Vedo già roba, com'è possibile? Cos'è sta roba qua? Cos'è sei tu? Che bioma è questo? Non credo ci fosse quando giocavo io. Una scaletta qui. Non sono sicuro di cosa sto guardando in questo momento. Sono cose alle quali dovrei prestare attenzione, oppure no. Sembrano un po' sparsi ovunque. Forse... cos'è questo? Boh. È tutto abbastanza nuovo, in realtà, in questo bioma. Per me. Non penso mi riservino cassi o cose così, sti cosi, comunque. Per me. Per ora. Quitto questo. Pezzo di mondo. Ma, se io nuotassi... Nuoto più velocemente di quanto cammino, vero? C'era un modo... C'era il modo di nuotare, cos'è? Consumo cosciotte? Ma smetto di nuotare se riemergo troppo. Ah, non posso riemergere. Ah, ma non si risatta del tutto. Ma che schifezza è? Sì, non mi fa riemergere del tutto. Sì, lo evitiamo di prendere danno sin da subito, possibilmente. Ok. Vorrei un bioma... normale, tipo la pianura. Se riusciamo a ottenerla... Quella dovrebbe già essere pianura. No, è foresta. Mannaggia. C'è di positivo che nuotando non... non perdo vita. Cioè, non perdo vita, non perdo... fame. Non mi affamo. No, non è foresta quella. È pianura. I pesci si uccidono facili o... Ah no, devevo pestare un sacco, prima che muoiano. Ok. Direi che questo sia un buon posto per iniziare la nostra avventura. Easy avventura, però... Non male, non male. Se alberi sono un po' troppo alti, probabilmente, per riuscire a ciopparli del tutto, la cosa mi dà leggermente fastidio, ma vabbè nello stesso. Ciò che non capisco è perché Minecraft ha questi momenti in cui non c'è musica proprio per nulla. Cioè, zero proprio, non... Chissà. Eppure c'erò attivo. Ma anche, cioè, il volume in generale è diversissimo da quello di ieri. Rimetto il centro. Ok. 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 Chop, 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 fatto. Sono ancora una donzella. Questo non me l'aspettavo, se devo essere sincero, per il sistema di... Vabbè, non si può dire su Twitch. Qui mi tiene sempre lo stesso. Va bene. No problem. Mettiamo qui questa per ora. Un po' di stecchi. che si dice andranno bene. Andiamo... con un approccio diverso da quello di ieri. Questa non la porto dietro, non si sa mai... Ok. Io... mi porterei verso... la parte di là. Sempre... con la tattica del nuoto. Ma allora si può dire... No, ma... Ma è buggata sta cosa. Cioè, sto nuotando... Posso nuotare sul pelo dell'acqua, vabbè. È un po' cittare sta cosa, eh, però... Va bene lo stesso. Allora. Il fatto che ci sia una distesa molto, molto... Brulla. Non mi dispiace. Farei la mia prima miniera lì, più o meno. Tra pianura... Tra pianura... E boscaglia. Ok. Così se mi serve altro legno ce l'ho vicino. Dubito che saremo così fortunati a trovare subito le pecore. Però qui ci sono i maiali, quindi mai dire mai. Guardo solo un attimo qui su questa quadrina. Pecore. Sono tre bianche, quindi posso farmi il letto. Questo è molto good. Non ho niente con cui picchiarle, quindi ci metterò un quarto d'ora... ...ad ucciderle. Ok. 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 Crasting table. Letto fatto. Molto good. Ora. Cos'è questo lag? Oh. Cerchiamo di non laggare così. Ok. Hmm. C'è un botto di animali lì. Ok. Io direi allora di partire senza indugio o segugio. minare la nostra prima pietra. Ci servirà assolutamente del carbone, ma abbiamo visto dalla scorsa puntata che non sarà un problema verosimilmente. Certo, è stata una puntata molto fortunata la scorsa, nella sua sfortuna dell'essere... Cioè, nella sua sfortuna. No, è stata fortunata al 100%, però io sono scarso e quindi... ...è stato ucciso dal primo scheretro in assoluto che io abbia visto. Primo che mi ha sparato, diciamo, perché in realtà ne ho visto uno anche in caverna. Eh, quello che mi dà un po' fastidio è che l'altra volta questa cosa non è stata fatta proprio per niente. Penso di aver trovato della cobblestone dentro a una cesta. Quindi non ho proprio dovuto minare niente con il piccone di legno. Ho fatto l'accetta di legno. Unico strumento della scorsa serie, serie, della scorsa puntata. Senza far buio qui. Non è bene. Materiali che non mi servono. Un po' di... Di carbone sarebbe meglio, eh. Non voglio che mi sponi roba dietro. Lo voglio già da subito perché non c'ho manca una spada. Ok. Andiamo a risalire alla luce. Facciamoci... ...fantastica fornace. E' un fantastico piccone di piedra. Ok. Faccio qui. Per ora... Adesso mi tocco fare una roba del genere. Non sono sicuro. Questa cosa... C'è che ce ne sia abbastanza, però. Possiamo fare solo quello per ora. Ok. Pensando se mi viene in mente qualche trucchetto per... ...illuminare diversamente, ma non... Non mi viene in mente nulla. Spero solo non sponi nessuno. Cosa che è comunque improbabile che non sponi nessuno lungo queste scale. Qui c'è il materiale più inutile della storia... ...a quanto mi dicono, poi. Nel senso sia effettivamente così oppure no. Scuspiremo, immagino. Sento già uno scheletro. Spero non sia dietro di me. Non lo è. Però c'è qualche cosa che sta renderizzando, perché... ...non mi... ...non mi torna... Oh, la madonna, infatti... ...ok. Non mi tornava... ...quello cos'è? Non è uguale a questo. È un altro materiale. Qui c'è un creeper. Eh, io non ho modo da andare giù, però. Però lì è illuminato. Scusa, eh. Ehi. Stai iniziando a venire notte, spero non sponi nessuno, così posso piazzare il letto in fretta e furia... ...e dormire senza passare la prima notte. Sono andato dai mob. Vorrei non finire dopo un quarto d'ora di streaming, possibilmente. Allora. Tu mi stai dicendo veramente che... ...allora, voi tre morirete tutti e tre. A breve, spero. Udio. Ok, morite per cortesia. Ah, ma non danno... ...non danno la carne quando muoiono così? Peccato. Allora. Questa cosa partirà da un punto, no? Cioè. Dobbiamo di fare così. C'è un altro zombie che sta morendo nel mezzo. Questo è molto bene. E abbiamo iniziato in una maniera corretta. Ma sì che lo danno, allora. Abbiamo dell'iron, questo è estremamente bene. Dobbiamo puntare a farci l'armatura di iron il più velocemente possibile. Per non crepare come ieri. Io direi che siamo anche già pronti a farci un po' di torcette. Ok. Potta un flash che non sa mai che io debba mangiare qualcosa. Eh, ieri forse sono morto in maniera stupida perché... ...non avevo mangiato forse prima di andare a affrontare i mob. Quindi non mi si rigenerava neanche la vita. Non avevo chance. Eh, succede quando non giochi a tanto da Minecraft. A tanto da Minecraft. Da tanto a Minecraft. Mannaggia, per che che sia. Ok. Tra l'altro. Al posto di mangiare sta schifezza qua potrei mangiare tranquillamente il romatton. Però ho visto che non perdo vita da avvelenamento. Tipo, a parte che non mi sono avvelenato, ma... Non perdo vita da avvelenamento. Quindi... La cosa non mi piace molto, eh. Ok. Voglio veramente rischiarmela così? No, non voglio. Devo essere sincero, non voglio. Non ne ho molta... ...intenzione. Come sono sceso qua? Da qua. Eh, ma dov'è la mia crafting table, eccetera? Verso... Di qua forse? Nope. Di qua forse? Ho già perso la mia, tra virgolette, base. Però era al limite circa... Eccola. Partato. Allora. Questo romatton mi servirà di sicuro. Questi... Mi saranno utili. Io non sono ancora abbastanza, però li lascio lì dentro. Vorrei... Intanto farmi... Un paio di chest. Questo per... Ok. Per ora questo io me lo porterei con me. E lo terrei anche nell'inventario rapido. Un po' di questo, un po' di questo. Del cibo sempre e comunque. Stecchetti e colla. Magari... Le teniamo a metà a casa. No, vabbè. Non ha senso. Non ha senso. E un po' di legno anche. Ok. Copperman ci interessa. Va bene. Ho 32 torce, sì. Direi di illuminare immediata subito... Questo coso che ho scavato. Direi anche di abbassare molto velocemente... A render distance perché non mi va di raggare così. Ok. Non voglio cadere, soprattutto. Dai, non laggare. Povere. Come... Come minchino così. Vado per fare la morte più stupida del mondo, comunque, eh. Tipo che se mi becco uno scheletro adesso... Sarà lo stesso la morte più stupida del mondo. Ah, non ho più... Vabbè, ho già fatto questo. Ok. Dove avevo visto materiali? Lì. Devo cercare di essere il più safe possibile. Ok. 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 Spongerlo senza morire. Ok. Io sono abbastanza safe. Perfetto. Però non mi fa accompagnare nessuno. Plastico. Però... Va bene così. Intanto... Sto oscillando. Sto oscillando e cercando di recuperare le mie energie creative. Ok. Ok. Oh, ce n'è anche lì sotto. Però io stavo andando in questa direzione. Allora. Serio? Ok. Ora devo solo andare... Eh, ma non c'ho manco... Mi è andata molto di fortuna, in realtà. Perché se non fossi riuscito a minare queste tre... ... cose di cobblestone col mio ultimo pezzetto di... ... di piccone... ... non sarei riuscito a farmene un'altra... ... avrei dovuto farmene un'altra ancora di pietra. Terribile. Allora. Spicchetti. E tre di questi. Bene. Con questo direi di fare un paio di... ... di piccini. Ok. Ho preso degli iron ore? No. Però ho un sacco di... ... di cola adesso. In teoria. Ho preso altri materiali? No. Questo mi conviene tenerelo qui. Meno male. Che cosa meno male? Saf 496. Sei safo per caso? Giusto per sapere. Safo l'amica di Simo. Non era una domanda... ... sui tuoi gusti... ... le tue preferenze. Anche se si possa dire su Twitch. Comunque ok. Che la rischiamo. Cosa riesco a prenderla? Assolutamente no. Ok. Mi sto ficcando in una... ... situazione terribile. Però... ... si fa quel che si può. Sono stata molto più fortunata l'altro anno. Ma non ci lamentiamo. Perfetto. Allora... ... c'era anche dell'Iron qui. Faffo la poeta. La poetessa. Questa è la prossima. Comunque... ... piacere... ... io sono... ... non mi vedi... ... perché... ... non posso... ... mostrare su Twitch... ... il mio torso nudo... ... però... ... piacere lo stesso. Dunque... ... cos'è quel blocco? Viola. Quello non l'ho mai visto. Quello non l'ho mai visto... ... e c'era un altro ancora che vedevo da lì su... ... che non avevo mai visto. Io come torno su esattamente? Tornando. Qua c'è questo tipo di... ... ok. Che vuol dire morire per il lag almeno? Non ho proprio la poeta... ... piacere. Ok. Devi sapere cara Saffo... ... o caro Saffo... ... adesso a questo punto... ... non ne ho idea. Per gli amici... ... Er Saffone. Ok. Va bene. Dovrai decidere se mi ritieni amico... ... e a quel punto potrò chiamarti Er Saffone. Dicevo... ... devi sapere che questo è un canale... ... tecnicamente morto... ... e quale ora sto streamando a caso. Tempo fa... ... streamavamo io e il mio gruppo di amici... ... chiamati gli Ovetti Filosofali. Non so se si chiama così il canale. Sì. Ovetti Trattino Basso Filosofali. Può darsi, sì. ... e quindi niente... ... ora non ci streama più nessuno... ... neanche io... ... solo che volevo chillare e... ... boh... ... mi sono messo a giocare a Minecraft a caso... ... non gioco di solito... ... quindi è un sacco di tempo che non... ... non prende in mano un gioco... ... e Minecraft mi è sembrato... ... quello più chill per... ... non fare nulla di impegnativo. ... ecco... ... ecco... ... cosa non va giù, vero? ... ... ecco... ... ecco... ... ecco... ... che si chiama Aurora... ... in realtà... ... ok... ... io direi che... ... no... ... non posso farlo ancora però... ... eh... ... il letto me lo porto dietro... ... non si sa mai... ... che finisca in situazioni spiacevoli... ... mmm... ... no... ... non mi conviene... ... però... ... mi converrebbe... ... intanto far così... ... con questi 19 pezzetti... ... tocca farsi degli altri... ... non puoi chiamarmi Saf... ... sì sì lei... ... eh... ... quindi... ... quindi significa che ti piace quella la pesca? ... che è il saffone per gli amici ma... ... non sono tuo amico evidentemente... ... come mai morto... ... eh... ... per una serie di ragioni diciamo... ... prima... ... prima su tutte ovviamente... ... il fatto che Twitch non paghi praticamente niente... ... per fare questa roba... ... e quindi... ... cioè... ... non è economicamente conveniente... ... spendere del tempo... ... a giocare... ... su Twitch... ... in sostanza... ... mmm... ... tutti noi ovetti... ... all'inizio eravamo... ... no... non è vero... ... forse io lavoravo già... ... comunque... ... all'inizio eravamo... ... studenti... ... e poi dopo... ... tutti quanti adesso abbiamo un lavoro... ... no... non è vero... ... due di noi... ... o uno o due di noi ora... ... eh... ... ancora... ... stanno... ... all'università... ... ho detto una bugia... ... comunque sì... ... non... ... non c'è il tempo materiale... ... per mettersi qua a streammare... ... né... ... i mezzi magari anche... ... sono... ... sono quelli che sono... ... però... ... dai... ... l'importante... ... è proseguire la nostra amicizia... ... anche lontano... ... dagli occhi del web... ... certo che siamo ancora amici... ... ci sentiamo tutti i giorni... ... io mando i memini su gruppo... ... sono il member del gruppo... ... eh... ... sì... ... eh... ... cioè... ... non penso... ... ci perderemo di vista... ... da qui a molto tempo... ... quindi... ... siamo un gruppo molto affiatato... ... semplicemente non stremiamo più su Twitch... ... come prima... ... potremmo ricominciare a farlo volendo... ... allora... ... a posto... ... non mi ha risposto alla cosa della pesca però... ... vergogna... ... vediamo se... ... ok... ... abbiamo un numero adeguato di... ... cose cioppate... ... ok... ... devo essere sincero... ... quella miniera non mi... ... non mi... ... non mi piace da morire... ... no però se tu mi fai fuori... ... le pecore non è bene eh... ... perché le pecore a me servono... ... stai ben calmo... ... allora... ... non conviene per due... ... romatton... ... sprecare... ... il mio call... ... però lascerò a casa... ... tutto questo... ... tu... ... come vergogna... ... tu vergogna... ... eh giusto giusto... ... a me piace al limone allora... ... mi devo vergognare... ... mi sembra giusto... ... mi sembra legittimo... ... ma a posto che comunque li bevo entrambi eh... ... cioè non... ... non ho... ... ho... ... ho una preferenza per quello a limone ma... ... solo perché è meno... ... meno usuale comunque quello... ... alla pesca... ... cioè quello... ... quello a limone sei sicuro... ... di trovarlo... ... però la pesca non... ... non così tanto... ... non è così difficile... ... la pesca... ... io intendo quello all'estate ovviamente... ... cioè quello dell'estate... ... eh... ... non ho più... ... materiali... ... se scavassi dritto per dritto qui... ... farne un po'... ... ma se io metto in pausa... ... si mette proprio in pausa tutto il gioco... ... su... ... anche nella hardcore... ... oppure no... ... non mi ricordo... ... zero excuse... ... eh giusto... ... giusto... ... eh niente... ... non sono... ... non sono meritevole... ... della tua fiducia... ... ci ho aperto un server... ... di Minecraft... ... da poco mi stavo chiedendo... ... se tu... ... mi potessi aiutare... ... a trovare errori... ... nella modalità survival... ... come errori... ... in che senso errori... ... in caso ti posso mettere anche... ... il tag streamer... ... e poi giocare con i followers... ... no guarda... ... sto facendo... ... sto facendo un po' di Minecraft... ... and chill... ... sostanzialmente... ... non... ... non sono interessato... ... a giocare a Minecraft... ... in maniera... ... mi viene solo pedisse qua... ... ma forse non è la... ... la parola giusta... ... cioè nel senso non... ... non lo farò abitualmente... ... lo sto facendo adesso... ... per chillare questa sera... ... ma non... ... non ha un futuro questa cosa... ... diciamo... ... per il momento... ... dopo... ... dopo vi leggo eh... ... sono... ... un po' sospeso nel vuoto... ... in hardcore... ... quindi... ... sarebbe meglio... ... stare ben concentrati... ... no... ... non volevo fare questo... ... e ho perso una torcia... ... così... ... vabbè... ... va bene... ... ok... ... è tutto per dritto... ... la cosa non è... ... tra le più safe... ... che io abbia mai fatto ma... ... eccoci... ... volevo semplicemente... ... continuare ad andare verso il basso... ... senza... ... senza... ... esplorare questa cosa gigantesca... ... che non me la sento per il momento di esplorare... ... perché... ... da un momento all'altro potrei morire... ... allora... ... gioca con gli amici... ... in single player... ... metti pausa nel gioco... ... ok... ... anche in modalità hardcore... ... quindi... ... fantastico... ... grazie mille dell'info... ... siccome ancora in beta... ... per questo gli errori... ... ok perfetto... ... non fa niente... ... ma... ... non capisco come possano essere... ... cioè nel senso... ... in che senso gli errori? ... ci sono gli errori? ... come? ... non ha mai avuto un errore... ... il mio minecraft... ... sa che non ci ho giocato troppo... ... però... ... ok... ... è tempo di farsi... ... un nuovo piccone... ... ma ho preso dell'iron... ... sì... ... avevo preso dell'iron... ... ah... ... ci ho fatto la chestplate... ... ma non capisco... ... perché ogni tanto largo comunque... ... ho anche abbassato i chunk... ... di caricamento... ... render distance intendo... ... quanto tardi è... ... non troppo tardi... ... ok... ... allora... ... facciamoci... ... questo batto di cancino... ... eeeh... ... lasciamo qua questo... ... e proseguiamo la nostra... ... con... ... con... ... cioè se... ... se mi mancano due cosciotti... ... recupero lo stesso la vita? ... non ricordo... ... è tanto che non gioco mai... ... cioè da ieri però... ... anche ieri... ... cioè ieri era tanto che non giocavo a Minecraft... ... per quanto giochi... ... giocherò finché non morirò... ... quindi... ... quindi ieri un'ora e quaranta circa... ... sono durato... ... al primo schermo sono morto... ... quindi... ... vedete voi... ... mi terrò accompagnare per un po'... ... no non rigenera... ... eh ok... ... quindi dovrei mangiare... ... però la Romatton... ... quanto mi... ... cioè... ... quanto mi fila la barra della... ... della fame... ... se mi fila tre... ... aspetto di... ... di averne persi tre... ... se no non è efficiente... ... io facendo questa cosa sto... ... anche evitando di battere la testa o no? ... no... ... ok... ... ma ci sono ancora le caverne... ... sì ci sono stato ieri... ... no ieri sono stato in una mineshaft in realtà... ... ok... ... la domanda era... ... ci sono ancora le... ... le caverne normali... ... dei miei tempi però... ... lo scoprirò immagino... ... ieri mi hanno spoilerato che... ... posso andare sotto al... ... o sotto alla bedrock... ... o comunque sotto al... ... livello 0... ... ho detto che i diamanti si trovano a livello meno 50... ... qualche cosa... ... o... ... o... ... un house... ... quando c'ero io... ... queste cose... ... non esistevano... ... allora... ... proseguiamo... ... è sufficientemente pericoloso... ... ciò che sta facendo in questo momento... ... potrebbe esponere qualcosa da un momento all'altro... ... ok... ... infatti ora... ... tapperò... ... ok... ... allora... ... sì sì ci sono... ... cosa... ... in che senso... ... le caverne normali... ... ok... ... perfetto... ... ma che se fosse live notturne... ... Andrea... ... devo chillare... ... devo ricaricare le mie energie creative... ... quindi sto giocando a Minecraft... ... e ho deciso di farlo in live... ... la bedrock è meno 60... ... ok... ... ci sta... ... ai miei tempi non era così... ... troppo famoso per rispondermi... ... no tranquillo... ... aspetta un attimo... ... questa cosa è oro vero? ... posso minarlo con il... ... con questo piccone... ... non era così la texture dell'oro prima... ... saltare versioni di Minecraft... ... è sempre un po' traumatico... ... eh già... ... e ne ho state diverse io quindi... ... piccone di ferro... ... lo lascio lì allora... ... e si è rotto anche questo... ... mettiamo qua una torcia... ... e risaliamo... ... anche perché è notte... ... ma se al posto di risalire... ... non posso veramente metterlo così... ... ah sì ok... ... come io... ... cioè come è possibile che io abbia dormito qui... ... ah non è giusto... ... devo farla... ... il piccone lo stesso... ... che io abbia dormito qui... ... nonostante i rumori di schede... ... delle caverne... ... particolari... ... però... ... cioè... ... ma sta musica esiste o... ... non ce n'è musica... ... non capisco... ... dall'inizio della live... ... che non ce n'è... ... o non me ne sono accorto... ... non lo so... ... però ora... ... non ce l'ho sicuro... ... comunque mi fa piacere... ... avere degli spettatori... ... prima ero da solo... ... che era poi l'obiettivo in realtà... ... però non... ... non fa niente... ... allora... ... non ho trovato altro ferro... ... questo è male... ... cosa dovevo fare io... ... un po' di stecchetti... ... facciamo... ... ok... ... non ricordo mai il tasto... ... facciamo... ... un paio di picconi dai... ... tre... ... devo risalire per un po'... ... ok... ... questo qui... ... questo la lascio a casa... ... ho bisogno di farmi altre torce... ... non tante in realtà... ... questo e questo... ... anzi... ... mettiamola qua... ... facciamo questa... ... no... ... non mi piace questa disposizione... ... facciamo così... ... eh... ... questo qua... ... così... ... qui... ... ripositiamo questo e questo... ... questo... ... questo lo mettiamo qua... ... facciamo... ... questa fantastica operazione... ... ok... ... questo è il mio CD che parla... E basta Direi che posso tornare giù Dite che posso azzardarmi a bere Mentre vado dritto per dritto Guardate come muoio in maniera stupida Ok Se ne è compiuta Mai avrei sperato di arrivare qui giù Senza morire Mentre giocavo con una mano sola Ok 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 Io posso vedere che livello sono Si Con F3 Ok Dunque sono a Meno 20 No 16 forse 16 Ora quindi tu lavori Si 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 io sono programmatore Sono web developer Diciamo che attualmente sono tecnicamente Oh Ok Sono tecnicamente back end developer In questo momento Però sto Acquisendo le competenze Per diventare full stack developer Piano piano Con molta calma Posso farcela Che scuola ho fatto? Eh Questo è un tasto dolente Allora Ho fatto Il primo anno di liceo Anzi Il primo primo anno di liceo Ho fatto la quarta ginnasio Quindi Andavo al classico Il secondo primo anno di liceo Quando mi hanno bocciato Sono andato allo scientifico Poi ho fatto Due volte la quarta Perché mi era affezionata Mi piaceva Allora ho detto Perché no Mi facciamola E poi dopo sono andato all'università All'università ho fatto economia Perché sono Scemo No non è vero Perché era quello che mi piaceva E quindi Ho fatto bene a farla In sostanza E Dopo aver fatto economia Mentre Cioè nell'estate Nella quale Speravo di potermi Concedere Cos'è quello? Cosa sei tu? Una starattita Cos'è? Ok Mai vista questa roba Nell'estate Nella quale volevo Concedermi del riposo Del meritato riposo Dopo sette anni di liceo Tipo Un mese dopo la mia laurea Neanche Meno di un mese dopo la mia laurea Mi chiamano Vuoi venire a fare Lo sviluppatore No.js? Vabbè Va bene Let's go Cos'è questo? Pietra strana Ok Non è quella di Silverfish No? No non penso Avrebbero già spuntato E E niente Ho accettato E quindi ora Mi trovo a fare Quello che in realtà Era il lavoro Dei miei sogni Cioè Economia è sempre stato Un backup plan Stanzialmente Economia mi piace Bella Continuo ad apprezzarla Mi darà un piano B Nel momento in cui Non dovessi più fare Il programmatore Mi ha permesso di Innanzitutto ripristinare Un po' di Di auto Come si chiama? Autostima Perché Dopo sette anni di liceo Ti fai due domande Riuscirai a fare l'università? Sì o no? Sì Sono riuscito Cos'è questo? È la nuova redstone Non è saggio forse Picconare qui Ci potrebbe essere lava dietro E invece no E Quindi sì È servito sostanzialmente A dimostrare a me stesso Che potevo farcela E poi dopo Ho inseguito le mie passioni Che sono In realtà La programmazione Oh sì La musica è partita adesso Dopo Dopo sessantadue ore È partita La musica Molto bene Sono contento Allora Se cadi sulle stalagmiti Prendi Il triplo del danno È la madonna Ok È stato un cammino tortuoso Ma almeno hai trovato Subito lavoro Cioè No Il lavoro ho trovato me Che è diverso Cioè Io non stavo cercando lavoro In quel momento Ero lì che stavo decidendo Faccio la magistrale Non la faccio Vado a lavorare Cosa faccio nella mia vita E niente Volevo rilassarmi Nella mia vita In quel momento Ma il lavoro mi ha Mi ha trovato Non che io mi lamenti Perché sono Il genere di persona Che non riesce mai A stare ferma Sempre su Nuovi progetti E Ho sempre qualcosa Che mi frulla in testa Però Ecco Un po' di riposo Non Sicuramente Mi avrebbe giovato Non è stato così Nella vita Si fa Si prende ciò che arriva E lo si cerca di Accettare Trasformare in cose Ancora più Ancora migliori Allora Anche qui Tasto Strano Questo Nel senso Quando mi hanno contattato E mi hanno chiesto Vuoi fare Il developer Non JS Io gli ho detto Di sì Però sì A condizione Di non essere Sottopagato Non pagato Mal pagato Cioè nel senso Mi devi pagare Mi devi pagare Come si deve A quanto pare È piaciuta La mia Tra virgolette Arroganza Non so se è troppo Alta la musica Per voi A me sta scassando Le orecchie Comunque Vediamo Vediamo cosa Vedete Sì Quindi In sostanza Gli ho detto Bisogna Che mi paghiate Abbastanza bene Per convincermi E loro hanno detto Non c'è problema E mi hanno preso Pagato Diciamo Abbastanza bene Per uno Junior developer Subito A tempo Indeterminato Problema La società Era maltese E io i contributi Così li stavo Versando a Malta Non la sento Non senti la musica What? Scusa Se faccio così No però Mi dice che Che la sta catturando La musica Cioè il I suoni Del Del pc Strano Vabbè E Società maltese Contributi a Malta Io Sinceramente Vorrei una pensione Italiana Vorrei una pensione Intanto E questa Non ci piove Però lavora Italiana Non Maltese E quindi In sostanza Ho deciso Di abbandonare Il mio tempo Pensa quanto sono Stupido Abbandonare il mio tempo Indeterminato In favore In favore della partita IVA E quindi adesso La partita IVA Con Gioie E dolori Della partita IVA Dio mio però Mi vuoi proprio Costringere a Ad andare In questa direzione Vabbè Vabbè Esploriamoci Sta caverna Grossa Sperando Di sbucare Da qualche parte Se faccio così Un botto di tassi Allora Insomma Dipende La mia fortuna È che Il tipo di lavoro Che faccio È tassato In Italia In percentuale Nel senso Guadagno X Su quel guadagno Tot percento Dello Stato Io ci tengo A essere Un bravo cittadino I soldi Le tasse Diversi Anche volentieri Usufruisco Dei servizi pubblici Comunque Quindi Ospedale Eccetera Servono Sono ben lieto Di pagarli Capito? Capito signor Fisco? Sono ben lieto Di pagare Ok? Quindi Quindi Sì Pago in percentuale Su quello che guadagno Non sono come Altri tipi Di libri professionisti Che hanno un fisso Guadagni zero Devi pagare lo stesso Da quel punto di vista Sono fortunato Da un secondo punto di vista Anche sono fortunato Cioè Su quanto Devo versare Alla fine Perché verso Una percentuale Non così Alta Diciamo È una percentuale Ragionevole Per ora Per i primi Cinque anni Poi dopo Vediamo Come vorrà torturarmi Il fisco Diciamo che posso Tranquillamente Mantenermi così In questo modo In questo momento Questa caverna Mi inquieta Un po' tanto Tipo Quindi Ora Cercherò Cercherò Di fare così Vediamo se ci riesco Mai andare Senza sapere Dove stai andando Minecraft Ok Sapevo Che un partito Aiva pagavi Un tot fisso Si dipende Dal tuo codice Ateco In realtà Ci sono Dei codici Ateco Equi Diciamo Nei quali Funziona come Come una tassazione Che pago io Un percentuale Su quanto guadagni Che dovrebbe essere così Per tutti i lavori In realtà Non ha alcun senso Che se guadagno a zero Devo pagare lo stesso Perché Qual è la razza Di questa cosa Vabbè Lo stato fa un po' Quello che gli pare Lo stato no Il fisco Fa un po' Quello che gli pare L'italo fisco Purtroppo Ad esempio Se io E i miei amici Ovetti Compresa la Ro Avessimo Deciso di continuare La nostra carriera Come twitchers Cosa Cosa sei tu? Cosa sei tu? Oh un blocco Eh? Esistono i blocchi Di Iron Questo cos'è? Semprerò Iron Ok Illuminiamo Che non voglio morire Ok C'è un botto Di Iron Qui Ehm Se avessimo Voluto continuare La La nostra carriera Di twitchers Avremmo per forza Dovuto Ehm Aprirci la partita IVA Prima di tutto Perché ho sentito Un maiale Cosa cosa Sei tu? No Non è vero Non ti ho guardato Non ti ho guardato Non ti ho guardato Non ti ho guardato Mi fai paurissimo Mi sono spaventato Come lo schifo Ok Mangiamo No zio Non puoi farmene Queste cose però Cioè Muoio giovane Io se fai così Non volevo finire così La serata Io se devo Sare sincero Quindi Vedi un po' Ma non l'ho guardato Palese che io non l'abbia guardato Si è arrabbiato con me Perché è razzista Cioè No No zio Non si fanno queste cose Mi hai Mi hai preso un infarto Ho Ho spaccato qualcosa Ma non ho preso nulla Probabilmente non andava fatta così Questa cosa Tra l'altro È il mob Meno Cioè che era meno probabile Che mi attaccassi In un posto come questo Cioè mi aspettavo Un creeper Uno zio Qualsiasi cosa E invece È arrivato Proprio un enderman L'unico che non doveva Attaccarmi Fantastico La sono fatta addosso Cos'è quella roba lì Sempre roba viola Non capisco Vabbè Non voglio perdermi Quindi Direi che Le emozioni forti Sono bastate Per il momento Vado a farmi un piccone Di Di iron Così posso minare Anche questi or qui Metti il blocco di iron Nel craft veloce Questa potrebbe essere Un'ottima idea Benissimo Grazie mille Questo com'è Com'è che non l'ho visto Io questo Cieco Invalido Imps Sono invalido Guardatemi Boh Qualche tipo di Sussidio strano Allora Dicevo quindi No aspetta Non ho letto tutto Però quello che è scritto Devo fare Il quarto Di scienze applicate Non so più latino Aspetta aspetta So più latino Che di codice Ateco Ok Tranquillo Non ti preoccupare Tranquillo o tranquilla Adesso Non 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 sto ricordando Se sei una donna O un uomo Però Non voglio assumere Il tuo Gender Ovviamente Vediamo se posso Dormire Sì Posso dormire Non ti preoccupare Comunque C'è I codici a teco Sono una cosa Che solo Noi economisti Conosciamo E Chi ha Una partita IVA E Poche altre Figure Professionali Diciamo Quindi È assolutamente Normale Che tu non conosca I codici a teco Allora Che cosa sono Sta roba Tough Cobbled Deep slate Sì E basta Ok Allora Qui dentro Ci mettiamo Un po' di roba A cuocere Io quante torce Ho ancora Non troppe Quindi Facciamo così Refigliamo Ok Abbiamo comunque Un po' di call Io direi che ci va Sia un piccone Di Di iron Che Un pezzo Di armatura O anche due Allora Quello Megagaffatechi No 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 Vabbè È che è una sigla Penso a teco Quindi non Non si fa Il plurale Molto semplicemente Ora cercherò su google Per essere sicuro Di quello Di cui sto parlando No 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 Sono sicuro Non lo cerco neanche Sono sicuro Di quello Che sto dicendo Non si dice Codici a teco Codici a techi Si dice Codici a teco E Lo stavo dicendo Prima Che se Avessimo Proseguito La nostra carriera Come twitchers Lo stato Avrebbe voluto Che noi Aprissimo Una partita IVA Come Viene il termine Come commercianti E saremmo stati Zio Anche no Commercianti Saremmo stati Commercianti Per lo stato Perché tecnicamente Guadagniamo dalle pubblicità Secondo lo stato Cosa che È irrisoria Nel guadagno Di un Di un twitcher Comunque Ok Sì Visto che guadagniamo Con le pubblicità Siamo dei pubblicitari I pubblicitari Pagano le tasse Come se fossero Commercianti Bisogna iscriversi La camera di commercio Eccetera Eccetera Non bene Anche perché I commercianti Hanno un fisso A questo punto Purtroppo Stessa cosa Vale per il mio canale Youtube di economia Sì Faccio anche Facevo anche Il Divulgatore Di economia Un tempo In un'altra vita E non ho mai potuto Ritirare I miei Soldini Per il semplice motivo Che lo stato Vuole Molto Di più Di quanto Sarebbe legittimo Che fosse La sua parte E io Sinceramente Non ho voglia Di andarci a premessa Quindi rilascio lì Attività economica Ah Teco sta per Attività economica Codici Di attività economica Vabbè Sarebbe Se fosse anche Di attività economiche Sarebbe comunque Teco Quindi Perché è l'inizio Della parola E non la fine Il cane Il cane si chiama Gigi Ovviamente Direi di averlo chiamato Gigi Poco fa Non è un cane Ancora un lupo Non ho delle ossa Da dargli Quindi rimarrà lupo Finchè non troverò Uno scheletro Ma Appena troverò Lo scheletro È verosimile Che io Lasci questo Questo mondo Purtroppo Però Diciamo che Per ora Me la sto cavando bene Eh Cosa ho appena fatto Cappellino Ok Ho l'armatura Di iron Completa Questo Potrebbe Salvarmi Da eventuali Enderman Avevo della roba Da cuocere Alla veloce Gigi Ma smetti di Di spingermi Per cortesia Tutto quello che vuoi Ma Tutto c'è un limite Sono dispari Vabbè Vabbè Dispari e dispari Non ci posso credere Ok Ripristiniamo Un po' di Arumatone Il canale si chiama Il can Ah il canale Non il cane Ok perfetto Il canale si chiama Vets Economy Tutto da caso Potrei vedere La mia bella faccia Lì perché In Cioè la webcam È disattivata Per questo stream Ce l'ho Impostata Però L'ho disattivata Per ora E fa troppo caldo Mi tocca stare Senza maglietta Non voglio stare Su Twitch Senza maglietta Se devo essere sincero Non che non sia Un bel vedere Ma Mi sembra La cosa più adeguata Da far vedere Su Twitch Si può vedere In spiaggia Un spettacolo simile Su Twitch Ok È un bel po' Che non pubblico Comunque su Twitch Si su Twitch Su Sul canale YouTube Vets Economy Ma Il motivo è esattamente Ma perché qui due Vabbè Il motivo è esattamente Lo stesso Di Twitch Poco tempo Poco remunerativo Non Non ragionevole La tassazione Da parte dello Stato Quindi Non so da fare Purtroppo Purtroppo È uno Stato Che ti Non è che ti vieta Ma Che rende molto difficile Fare impresa In territorio nazionale Beh Qualche views La facevi Eh sì Ma C'ho dei video Anche che sono Da decine Di migliaia Di Di visualizzazioni Non è poco Cioè le mie Le mie Cosa ho visto Ah era un pipistare Le mie Soddisfazioni Me le sono tolte Assolutamente Sono diversi video Che sono andati Molto bene Tieni presente Che ancora Essendo Essendo Un tema Molto Molto poco istantaneo Diciamo Dura nel tempo Sono video Che vengono ancora vissi Cioè io Ogni giorno Ho comunque Ancora centinaia Di visualizzazioni E non Non accennano A diminuire Nel tempo Quindi immagino Che sarà un canale Che Anche senza video Rimarrà attivo Per tanto Tanto tempo Anche perché È una tematica Che Ha un certo numero Comunque Di Di ricerche Viene ricercata Parecchio Ma ci sono Gli slime Lì in fondo Ma che figo C'è anche uno scheletro Però è lì che morirò È un tema Che viene ricercato Molto Ma pochissima gente Lo tratta Quindi Chi cerca Determinati argomenti Trova me In italiano Se no Roba in inglese Ma spesso La roba inglese Non tratta Delle tematiche Che interessano Al pubblico italiano Cioè Al pubblico italiano Beh oddio Non è vero Del tutto Però Al pubblico italiano Interessa comunque Molto ciò che si applica Sul nostro territorio Non Meno roba internazionale O comunque Generale Non voglio avvicinarmi Troppo lì Quindi Per ora Me ne starò Bene in disparte Mi potete dire Cos'è questo E come si mina E cosa serve Soprattutto Se ha senso minarlo Potete poi No sì C'è più Più di una persona Ciao Europa Buonasera Buonasera giovine Nuovo tentativo Eh sì Tentativo 2 Avevo anche oggi Libero No Gigi No 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 Non ho neanche una spada Vabbè Non mi stai seguendo Vero Invece sì No Dov'è la mia scala Dov'è la mia scala Qua Ok Fantastico Mettiamo 2 torce Così Me ne rendo conto No Non sono pronto Ad affrontare nulla Di tutto ciò Quindi vado a farmi Un po' di Di attrezzi In iron Allora È erba Che fa luce Digo Ci può stare È tempo di bere Quindi sì Io ho comunque Abbandonato Nel momento in cui Ho iniziato a lavorare Il progetto del Del canale youtube Perché È sempre per la questione Tempo Però Rispetto a twitch È molto più semplice Che io diventi Tra virgolette Qualcuno Con youtube Trattando quel genere Di tematiche Perché Non c'è concorrenza In sostanza Quindi Ha perfettamente senso Che possa accadere E quindi Qualche cosa Sul quale Nel futuro Potrei anche Puntare Senza problemi E il fatto che Il canale Rimanga comunque Attivo Per molto tempo Cioè Che continua A avere centinaia Di views Ogni giorno È abbastanza Importante Per tornarci Un giorno Per invogliarmi A tornarci un giorno Diciamo Ecco qua La spada Vorrei farmi un arco Ma non ho La minima idea Non c'è Non posso Non ho Non ho il necessario Per fare un arco In questo momento Questi non mi servono Quindi posso Stodio Il medico Di cantare Lag Leggermente Sì Ma si può cambiare La qualità A voi Su twitch Non Non ho mica guardato Non so nulla Lagga ogni tanto Comunque Non so perché Gli ho allocato Tipo 9 giga di ram Non so per quale motivo Voglio laggare Come faccia a permettersi Di laggare Non si deve permettere Ma mai più Ok Quando faccio così Non spawnano neanche I mob No No perché Non continua neanche La fornace Quindi direi No Eh avevo anche Questi Or di gold Ma Gold a me Non serve a niente Quindi Anzi Stato verso l'alto 21 4 4 Questi me li porto dietro Sì Me li porto dietro Dovrei portarmi dietro Anche sempre una Craft in table Però Vabbè Per ora va bene Di tanto in tanto Lagga comunque Non Non molto spesso Ok Ora di mangiarsi Anche un aromaton Siamo pronti ad affrontare Qualsiasi cosa Ti saluto che sono Che sto un pelo Embriaco E non sto concentrato Tranquillo Tranquillo Non ti preoccupare Buona serata È pur sempre Sabato sera Quindi Ci sta Bevi responsabilmente Mi raccomando Non ti sfondare troppo Che se da domani Te ne penti E buona serata Grazie per avermi seguito Diciamo No Non è ancora durata Più di ieri La live Però Secondo me Stasera Posso riuscire A non morire subito Vediamo Qui sotto C'è un'altra Caverna No Semplicemente Un posto Dove fa spawnare Mob Io direi che Questa lava È un po' pericolosa Ah ma ci sono Degli or Qui Ok Direi di illuminare Come Cristo comanda Notte Notte Oh Questi or Mi fanno piacere Uno solo Però va bene Va bene lo stesso Ok Non le disegniamo Con le torce Io ti sento Zombie Non ti vedo Ma ti sento Vedo No Non sono pronto Per affrontare Gli scheletri Uno zombie Sì Gli scheletri No Mi hanno visto Però non si avvicinano A parte quello Sto facendo Come gli pare Oh zio No Ma sei matto Ha fatto una paura Da dove sei caduto Poi scusato Dove sei caduto Da lì in cima Ci può stare Allora Ormai di domande scomode Ne ho fatto Sul piano amoroso Facca miseria Allora Diciamo Diciamo così Sul piano amoroso Da quando È terminata La mia storia Con un'altra Ovetta Quindi un'altra Ragazza Del gruppo Di amici Del quale Ti parlavo Un bel po' Di tempo Fa Ormai Diciamo Che non c'è Stato altro E Non Non È bene Così Diciamo Mi sto Concentrando Molto Sulla mia Carriera E poco Sulla vita Amorosa Però Ogni tanto Se succede Succede Non Non mi tiro Sicuramente Indietro Lì ci sono Degli orche Mi piacerebbe Prendere Però ci sono Anche gli scheletri Quindi col cavolo Proprio Mi ha raccontato Niente di te Però le domani Scomode Non possono essere Unidirezionali Anzi Mi ha raccontato Che Bevi Te alla pesca Quindi So di non potermi Fidare di te No sto scherzando Ovviamente Scherzando Ok Io Io la tapperei Questa lava Basta Mi sono Mi sono Rotto Anche perché Non mi permette Di capire Dove è bene Illuminata E dove no E non voglio Fare una brutta fine Già prima Ho visto Girarsi E Vari creeper Non sono Io dover Intrattenere Ma questa Non è una live Di intrattenimento Questa è una live Di chilling Proprio Non Non è quello Lo scopo Non è intrattenere Poi io intrattengo Volentieri Non ho più Torce Bisogna che me ne fabbrichi Così per ora Seconda mano Sì Sì Non è nata Per intrattenere Questa live O meglio Questa live È nata Per intrattenere Me stesso Non gli altri Tutto questo Questa serata È nata Per intrattenere Me stesso Tra l'altro Ho appena finito Di guardare Una serie tv Tor No non tor Si chiama proprio Ragnarok e basta Senza tor Diamante Il primo diamantino Illuminiamo la zona Così Non mi uccide nessuno Mentre Mino il mio diamante Che prezioso diamante Che spero non sia uno solo Ma Demo di sì Ok Vediamo No Due Due Io Per scrupolo Scavo sempre Intorno Per capire Se ce ne possono essere altri No direi di no Ok Ci ho provato Allora Nella mia prima relazione Da due mesi Molto good Molto molto bene Le prime relazioni Sono quelle che Portano più gusto E fanno più male Quando finiscono Ti auguro che non finisca Ripenso alle mie prime relazioni Quanti errori In gioventù Allora Hai ovviamente Hai ovviamente Dedotto che ho 17 Visto che devo fare il quarto Sì 17 anni Non sei legale No Hai ottimi gusti In quanto a bevande Posso confermarle In realtà Perché Come ho detto prima Il tè alla pesca Mi piace Comunque Sono d'accordo Ok Degli attimi gusti Allora Io la redstone La sto prendendo Ma devo dire la verità Non l'ho mai usata Nella pratica No forse qualche volta Per fare roba Con i kart Ma non Non è il mio Il mondo È la redstone Per ora Almeno Farò così Per tenere illuminata No È una Scelta stupida Questa Ok Illuminiamo bene Ce ne abbiamo Scusiamone Anche perché A parte il copper Che mi hanno detto Che non serve Praticamente a niente Sto trovando Un sacco di redstone Non mi va Di lasciare lì Un materiale Un possibile materiale Utile Allora Oh no Maledetti scheletri Non vi voglio Vi voglio male Ok Vediamo di qua C'è nulla Beh direi che abbiamo Fatto un bel po' Di esplorazione Per ora Io volevo Un modo Sufficientemente Easy Per tornare Di là Ok Quello Non l'avevo visto Questi sono sempre Le opi slazzuli Che anche quelli Non li ho praticamente Mai usati Però va bene Ah li ho a casa Potrei farmi il letto blu Quale è Figo il letto blu Il colore preferito Blu Un po' D'oro Anche questo Non lo uso mai Va bene Lo stesso Ok Ok Riesco ad arrivare Qua Per gli scheletri Dovesti farti Uno scudo Ecco Lo scudo È un'altra Di quelle cose Che hanno Introdotto Appena prima Che io smettessi Di giocare Mai usato E mi sembra Molto Poco conveniente Per il semplice motivo Che non mi ricorderò Mai di alzarlo Zero proprio Non ho memoria muscolare Per questa cosa Quindi non ci riuscirò No zio No Via 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 Il più Velocemente Possibile Non hai Non hai capito Bene Non voglio Terminarla qui È stata solo Un'ora e un quarto Come si fa So scudo Dai Facciamolo Non posso avere Le torce in mano Se ho lo scudo Mi dà fastidio Sono abituato Ad avere le torce in mano Ma è notte Allora di sì Sembra più crepuscolo Che notte Non volevo Piazzare una torcia Però No in realtà È notte È notte Dormiamo O torce o scudo Eh lo so Scelte della vita Io preferisco Torce Sinceramente Però So perfettamente Che sarà uno scheletro Da ammazzarmi In questa serie Quindi Questa serie Questa puntata Allora con solo due Beh potrei farmi una No vabbè Una spada di diamante Ma non Non penso mi convenga Secondo me Mi conviene Prendere più di diamanti Possibili Tenerli da parte Per farmi l'armatura Come prima cosa La primissima cosa Da fare L'armatura Cioè Non c'è dubbio Su questo Secondo me Allora Ho 6 ore Che ora Metterò A Facere Un po' di rotten flash Che magari Mi porto anche dietro Non so mai Con questi 6 Cosa posso fare Vediamo intanto Come si crafta Il Scudo Scudo Ovviamente Non verrà fuori mai Perché in inglese In inglese Scudo Si dice Ovviamente Shield Non ho cercato Non ho cercato Semplicemente Non mi ricordavo Ok Non è neanche difficile Da fare No Questa cosa Però come la tolgo Così Ok Addio Mia amica torce Perché non posso avere Qualcosa In entrambe le mani Posso averla In realtà Sto già avendo Qualcosa In entrambe le mani Se faccio così Alzo lo scudo Lo baggo anche Premo molto velocemente Vabbè Boh Mi salverà Probabilmente Però Sono comunque Poco convento Andiamo a cioppare Un altro po' di Di legno Secondo me È una buona idea Cosa posso fare Con Con l'iron Dammi qualche suggerimento Per favore Ok Vorrei anche iniziare A farmi Una piccola farm Di Di grano Magari Ah posso fare un secchio Posso fare un secchio Per fare la fonte d'acqua infinita Vorrei anche costruirmi Una casa Prima o poi Però Non è questo il giorno Probabilmente Ok Evidente contatto Stanno anche Protestando Per la secchezza Dei miei occhi A quest'ora Però Fin che reggo Vado avanti Cioè Fin che reggo Fin che non mi ammazzano Comunque Dubito di far battina In tutti i casi Ok Sticchettini Sempre apprezzati Abbiamo Un altro po' Di logs Ah non potevo farlo Però da qui Andiamo a tornare Alla base Non posso permettermi Di correre Fin che non ho Una fonte di cibo Certa Non ho ucciso Nessuno scheletro Quindi Io Gigi Non posso ancora Prendermelo dietro E dunque Devo far così E così Ok Fare anche questi E prendermi un po' Di lana Volendo Potrebbe essere Un strumento utile Questo da tenersi In mano Ok Devo assolutamente Fare delle altre Ok Andiamo a prenderci Un po' d'acqua Facciamo La fonte d'acqua Infinita Se si può ancora fare In questa versione Una fonte d'acqua Infinita Che non Non ne ho idea Probabilmente Si E' una roba Che non penso Fixeranno mai Però Nel senso Con tutto l'affetto Io alle 2 Mi do Giusto così Giusto così Alle 2 Significa Tra 20 minuti Chissà Se sarà ancora vivo Tra 20 minuti Secondo me No Con tutti gli scheletri Che ci sono lì sotto Secondo me Non sarà vivo Tra 20 minuti Però ho uno scudo In questo momento Quindi Potrei anche salvarmi In qualche maniera Oh Poi se vedo Che sto stanco Anch'io Alle 2 Mi do Oppure io E un altro giorno Riprenderò Sempre questo mondo Cioè Arcor Non Cioè Se mi slogo Posso Posso riprendere No Non è che Devo fare un one shot Non penso Ok Vediamo se è veramente Una fonte d'acqua infinita Sì Lo è Quindi Facciamoci una bella zappa Di Ho pochi Pazzicchetti Eh Una bella zappa Di iron Beh Questo non è proprio Utilissimo Qui Quindi Posso mettere Questo a posto Di questo Eh Cos'altro volevo fare Io Ah Gli sticchettini Sì Era qualcosa Che volevo fare Perfetto Mettiamo via Questo che è in più Mettiamo via Questi che sono in più Mettiamo al centro Anzi qua Questo Questo perché Non è stato unito Con questo Non si sa Direi Saping Anche questo qui Qua Basta Fine Ah no La pala Anche devo farlo Si si puoi chiuderlo Puoi chiuderlo Puoi chiuderlo Un mondo Perfetto Perfetto E allora Easy Andiamo di pala Come mi conviene Fare Qui sopra Però c'è sta cosa Mi ha un po' fastidio Vabbè Facciamo una roba Di questo tipo Non è quadrato Sto coso Che brutto Ce ne cavalli Ma andiamo a usare le pecore Maledetta DHD Non posso Switchare Da una cosa All'altra Ogni due secondi Anche un sacco di polli Qui Partito Zaret Bravi polli Che mi date le uova Avevo visto un'altra Di Di pecora Se l'ha ucciso il lupo Vabbè Si Non ne vedo altre Va bene Ah forse erano da questa parte Si Non fatevi uccidere tutte Da Gigi Per favore Ok Maggiamo Non si sa mai Fatto Ora Vedo altre pecore di là Posso usarle Ah Ogni tanto ci vuole Un po' di Cerco Questo sia uno dei giochi più Forse sandbox E' nato proprio con minecraft Perché E' per antonomasia Il gioco sandbox Oh Cosa Con i lama Qui si sa che Se uccidi lui De spawnano I lama Però se li metti Dentro una barchetta No Posso dire che non Viene niente di interessante Ah io dovevo fare Il letto blu Mannaggia Non posso Switchare da una tasca All'altra così Ok Facciamo il letto blu Poi Devo mettermi a fare La mia piantagione Di grano Il letto blu Si fa con Uno di questi Vero Sì Faccio tipo così Sì Perfetto Ottimo Io direi di scavare Allora Prima Prima ci recuperiamo I semini Dai Poi devo capire Come posizionare Le fonti d'acqua Se la voglio fare Un minimo Oltre che estetica Anche efficiente Hai davvero un disturbo D'attenzione Stai scherzando Allora Questo è anche Un tema abbastanza Spinoso Nel senso Io Penso Come faccio Come faccio a essere Diplomatico in questa cosa Credevo di sì Diciamola così Ho indagato la cosa Con una psicologa Ha detto di no Non sono convinto Probabilmente ho fatto Troppe poche sedute Per poterlo capire E soprattutto è una cosa Che non ti viene riconosciuta In Italia Se la diagnostichi tardi Nel senso È molto difficile Farsi diagnosticare Da adulti Per la DHD Quindi sì Può essere Che io ce l'abbia Non ce l'ho Ufficialmente Però sono DSA Sia discalculico Che Eh vabbè Si è caduto Sia discalculico Che dislessico Che disgrafico Sono tutto io Discalculico Dislessico Disgrafico Eppure laureato No Semplicemente Comunque Quello che mi ha detto È che Non ho un vero e proprio Disturbo dell'attenzione Verosimilmente O meglio Non si può diagnosticare Secondo Le linee guida Italiane Però No Conque Però Ehm Diciamo che Metto Ehm Metto in atto Alcuni comportamenti Che sono Ehm Compensativi Del mio Essere DSA Che non è Neanche quello È stato diagnosticato Per tempo Quindi L'ho scoperto Da tipo Uno o due anni Dopo essermi laureato Ho scoperto Di essere dislessico Fantastico Ehm Quindi si Cioè Probabilmente Parte di questi Atteggiamenti Compensativi Che metto in atto Fanno in modo Che io abbia Alcuni Dei sintomi Della DH Sì Sì Così Diciamo che È il modo più Convincente Di spiegarla La cosa Allora La questione era Queste Uno Due O vanno O vanno in Non mi ricordo Tipo Uno Due Tre Cioè Non so neanche Se è abbastanza Se è troppo distante Questo Questo Codo qua Dalla fonte dell'acqua Non credo però Boh Io lì Cioppo fino a qua Dovrebbe essere di quattro Uno due tre Quattro Dovrebbe finire qua Questi due Secondo me Si Si tolgono Beh Questo si è imbevuto E sta a quattro di distanza Quindi Dai Allora Se è andato Dalla psicologa No Piove Questo significa Che possono esserci I mob Anche all'aperto Questo è malissimo Questo è super malissimo Allora Scusa Non posso leggere La tua chat Per il momento Devo andarmi A mettere in un buchetto Per farlo Buchetto Che può essere Tranquillamente questo Ok Dunque Sei andato Dalla psicologa Ma ti sei distratto E smesso di andarci Allora no Sono andato Dalla psicologa Ho terminato Il mio percorso Dalla psicologa Mi ha Detto Qual era Il resoconto E poi mi ha proposto Di continuare Un percorso diverso E io ho detto Che ci avrei pensato Ci sto ancora pensando In realtà Diciamo che la salute mentale È una cosa da ricchi In Italia Quindi per ora Si ci investirò Sicuramente Perché è un buon investimento Quello sulla salute mentale Però in questo specifico Momento Della mia vita Diciamo che mi sento Abbastanza a posto Con me stesso Da non Da non renderlo Una priorità Ci andrò In futuro Però non è Non è questo il momento Non è questo il momento Hai avuto problemi Con la scuola Anche per questo Questo è poco ma sicuro Cioè È Palese Che io sia stato bocciato Due anni Perché nessuno Ha riconosciuto Che forse Avevo delle difficoltà Per un motivo E non perché No Ho sbagliato E non perché Così Era un Fannullone Che non voleva fare niente La mattina e la sera Ok Sì Questo si è Si è tolto Quindi si tolgerà Anche questo Sicuramente Adesso Diciamo che ci sono state Delle carenze Da questo punto di vista Nell'accorgersi Proprio delle difficoltà Che una persona ha Se qualcuno Avesse aperto Gli occhi prima Forse le cose Non sarebbero andate così Ma Io sinceramente Non mi pento di niente Non mi pesa Essere stato bocciato Due anni Non mi sento indietro Rispetto agli altri Ho imparato Non farmi pesare troppo La differenza di età Con i miei compagni Ad esempio Che non è Comunque una cosa banale Ti dà Ti dà proprio Una prospettiva diversa Quindi Boh Sì Ho fatto il mio percorso Non Non cambierei niente Sinceramente Se sono diventato Quello che sono oggi È perché ho fatto Questo percorso E Questo percorso Mi ha portato in un punto Dove sono Contento di essere me stesso Non Non ho problemi con me stesso Ecco Quindi Per me Tutto di positivo Non importa più di tanto Essere stato bocciato Giudicato male Ecco Anche perché io poi In cuor mio Va bene che ho fatto L'università Per darmi un po' più Di autostima Nel dire sì Cioè posso fare anch'io Non sono scemo Però io ho sempre saputo Di non essere scemo Oltre che dimostrarlo A me l'ho anche dimostrato Agli altri Diciamo Ce l'ho appesa dietro Dietro di me Nella parete dietro di me La laurea Quindi Non sono neanche uscito Con un pessimo voto Avrei avuto Tutti gli anni La borsa di studio Per la La quantità di CFU Che ho preso Durante L'università Quindi sì Cioè Non sono gli ultimo L'ultimo degli arrivati Ecco Sono l'ultimo scappato di casa Che troverete nella vita Insomma Una persona Con una dignità Con un cervello Che nel suo ambito Sa il fatto suo Che ha una partita IVA Non ha un capo Riesce a mantenersi da solo È felice Si è tolto tutti gli sfizi Che si doveva togliere Con i primi stipendi Sta costruendo proprio il futuro Sono più o meno un adulto funzionale Dai Non c'ho niente di meno degli altri Non è sicuramente Venire bocciato due volte Che potrà fermarmi Dal mio fare Quello che mi piace fare Poi esattamente come me la sto chillando Stasera Io in genere Nella vita Me la chillo Non Non prendo Niente Troppo sul serio Me la vivo bene Dunque Aspetta che mi metto Sempre nel mio buchetto Per leggere Se no Si espona gente Non so Non sono in grado In questo momento Di affrontarla Allora Mi fa rosicare parecchie La situazione psicologi in Italia Guarda Non hai Non hai la minima idea Anche aver levato i bonus Ah non c'è più Il bonus psicologo Tra l'altro Mi ero informato Non potevo usarlo io Nel mio caso Perché La mia psicologa Era una psicologa Ma non era anche psichiatra Mentre il bonus Puoi usarlo solo Per la psicoterapia La psicoterapia La devi fare Con uno psichiatra Quindi Devi per forza Prenderti una psicologa Che sia anche psichiatra Oltre che psicologa Non ha nessun senso Zero senso proprio Quindi Si Non ha Non ha senso La situazione in Italia Quanto riguarda Gli psicologi Come viene visto Dalla società Con quanto sei uscito Dai Allora adesso dirò Una cosa che mi piace Spesso dire E che ritengo Molto vera Cioè Non siamo Non siamo numeri Le persone non sono numeri Diciamo che Avermi dato dei numeri Durante la mia carriera Scolastica e accademica Ha segnato un po' La mia vita Quindi Allora Ha segnato la mia vita Il fatto di Aver ottenuto dei numeri Che non sono quelli Che io Diciamo È la stessa Diseguaglianza Tra valore E prezzo Il valore Di una persona Non lo puoi misurare Con un Un numero Quindi Cioè se io ti dicessi Sono uscito Con voto X Tu automaticamente Nel tuo cervello Mi Mi Categorizzeresti Come una persona Da X Ma io Non sono Un numero Non Non puoi farmi Rientrare In una categoria In questo modo Non lo trovo giusto Quindi non lo dico Molto semplicemente Non lo dico Lo sanno solo Le persone che hanno visto Il quadretto appeso Dietro Dietro Le mie spalle In questo momento Che non sono tante In realtà Anche perché Le persone che riescono Ad accedere A questa stanza In genere Sono degne Della mia fiducia E se sono degne Della mia fiducia Gli frega fino a mezzogiorno Quanto prezzo Nel voto di laurea Quindi Oh Piano Sapevo che sarebbe accaduto Sarebbe successo Prima o poi Ok Non vi azzardate Non vi azzardate Mai più Ok Rispetto alla tua volontà Mi sta bene la motivazione Perfetto Grazie mille Grazie della comprensione Apprezzo Cos'è sei tu Cosa siete voi Ma perché due Più un creeper No vabbè Non posso dormire Neanche Durante le tempeste Vabbè Non mi devo avvicinare Comunque Ok Ma le torce Contano quando piove Cioè Se illumino la zona Non sponano lo stesso Qui Non volevo Piantarlo qua Comunque Ok Cioè Sta anche per diventare Notte Per dire Quindi Non posso lo stesso Piovere Non ti etichetterei A prescindere E ti ringrazio Però È una cosa che in genere Non faccio Comunque Non farò un'eccezione Invece posso dormire Mentre c'è la pioggia Per qualche motivo Ok Ero convinto Di no Ok Cervello umano Giudica Di natura Ma mi ha sempre Dato molto fastidio Anche a me Ci sta Qui avevo messo A cuocere roba No Ho roba da cuocere Ho solo questo Io mi farei No dai Facciamoci delle fans Delle only fans No scherzo Allora Queste E Queste Per fare questo Poi al contrario Cos'è Quelle Cos'è E cos'è Vabbè E No Cos'è Allora Io questi perché non li ho depositati qua Questo lo vorrei qui E questo lo vorrei qui La sezione Dei Degli animali La facciamo qua Spianando un attimo Questo Facciamo una cosa del genere Molto Poco grande Non c'ho le carote quindi non ti posso attirare dentro Però se ti spingo Però se ti spingo Ti spingessi anzi No te ne andresti Va bene Cosa posso attirare lì dentro? Niente in realtà Solo i polli Ah giusto Ho anche le uova Ecco perché ho fatto questa cosa Ho le uova Usiamole Allora Pollo Ah no Non ho Non ho semi neanche Quindi Diciamo ne ho un paio di semi Ok Dove sei finito Pollo qua? Ho anche Trovarlo vetto Vieni con me No Da sta parte Ok Fregato Non volano fuori vero? No Direi di no Allora Il fatto delle aspettative Tutte quelle cavolate lì Parlo dei voti Ma vale Vale in tutto Ci sta Ci sta assolutamente Penso che Le aspettative Siano Inevitabili Ma Una delle cose Più tra virgolette Tossiche Che la nostra Razza umana La nostra specie Ha coltivato Nel tempo Nella cultura Le aspettative Proprio Cioè Il fatto che Allora Le aspettative In sé Non sono il male È la pressione sociale Che abbiamo messo Con le aspettative Che è il male Purtroppo Quando altri esseri umani Si aspettano qualcosa da te È Automatico In pratica Che Prima o poi Le deluderai E comunque Non Cioè Non è il massimo Ma Scusa Non erano tre Qua Cioè Fa un po' schifo Il sistema Ci sono altri esseri umani Che si aspettano qualcosa da me E quindi Ho la pressione Di dover fare Determinate cose Perché c'è qualcuno Che si aspetta qualcosa da me Vorrei vivere la mia vita Senza questo tipo di influenze E cerco di farlo Il più possibile Però Non Non sempre si riesce a fare Questa cosa Purtroppo Però Io ci provo Faccio del mio meglio Per provarci E faccio del mio meglio Anche Per cercare di Non far pesare Le mie Di aspettative Nei confronti Degli altri Cerco in generale Di essere L'essere umano Migliore La versione Migliore di me stesso Diciamo L'essere umano Migliore che io riesca a diventare Per ora Credo ancora Nella bontà Delle persone Per il momento Pagare le tasse bene Seguire le regole bene Perché C'è il Celsereno C'è il Fulmin C'è il Celsereno Su Minecraft Non mi era mai capitato Penso Non laggare Perché lagghi Caso Ma questo forse C'è Streamlabs Che mi fa laggare Così Non lo so Non neanche sta Render Distance Da dire 62 milioni Di chilometri Ma di nuovo Ma forse c'è Una tempesta C'è in un bioma Qui vicino E quindi La sento anch'io Che sono È un altro Siamo tre O che si è buggato E pensa ancora Di essere Cioè che sia piovendo Boh Non saprei Sto inaridendo Ogni cosa Comunque Cogliendo Tutti Gli arboscellini Posso chiederti L'età Certo che sì Ho 26 anni Al momento Tra Meno di un mese 3 settimane Per l'esattezza Avrò 27 anni Mi avvio Per i 30 E va bene E va bene Mettila più bassa Rispetto Aspetta Vedi quanto hai La simulation distance Ha al minimo possibile Perché ieri Mi hanno detto Di metterla così Cioè che non serve a niente Serve solo per far Girare i mob Cioè Perché i mob si muovono Sostanzialmente Mi hanno detto Io non ho nessun interesse Nei far muovere i mob distanti Volevo solo Non laggare Ma a quanto pare Non mi è consentito C'è che da dire Che sto streamando In 1080p 60fps E ho tre schermi collegati Questo potrebbe Vagamente intuire Intuire Influire E il mio è un portatile Quindi Sta che non abbia Queste prestazioni Megagalattiche È costato Come Come portatile Però Non si può Neanche pretendere Niente Anche vecchiotto L'ho maltrattato Upstreaming si vede Fluido Cioè nel senso A parte il mio Lag proprio Del pc Quando non laggo Si vede bene Spero di sì Allora io adesso Entrerò E vi farò Riprodurre E GG Dovete fare All'amore Voi due Ok Perfetto No GG era Il lupo Comunque Sempre niente Allora Prendiamone un altro Po Possiamo seminare Penso che Finirò quando Avrò Oh no Sono le due due Questo è male Significa che a breve Mi abbandonerai Io farò Più semini possibili Semini possibile Sì perché sono Non sono i semini Ad essere possibili Quindi sì Più semini possibile E Coltiverò Tutto il mio Campo E dopo aver fatto ciò Me ne andrò A dormire Se non sarò morto In quel momento Ora quello che farò È anche Stendermi Aia Leggermente Che la mia schiena Avvicinando 630 Mi consente Di stare In questa posizione Per troppe ore C'è ancora più chilling Comunque Nel fatto Di giocare Stesi Cioè stesi Poi Non è che sono Propriamente steso Sono La sedia reclinata Lugga perde di qualità Ma poi si riprende Strano Arrivo a due ore Di stream Quindi ancora un quarto D'ora Cioè va bene Un quarto d'ora Spero di Di piantare tutto Comunque Credo serviranno Così tanti Semini In realtà sì In realtà ne mancano Ancora parecchi Però Da qualche parte Bisogna pur cominciare Poi prima o poi Andrò All'esplorazione Di questo mondo Troverò un Un villaggio Sperando di trovare Anche Delle carote O in qualche cesso Sotterranea Devo anche Dormire breve Possibilmente prima che Spuonino i mob Se no Mi fa più dormire Ma l'erba alta Ha più chance Di farmi Troppare i semini O sbaglio Ok Domani sveglia presto O presto le sette e mezzo Non sono un mattiniero Non sono un mattiniero Quindi sei tradito Sei un maschio Ci sta Io Non sono un mattiniero Fisso Fissato Né un par di giorno Nel senso che Se voglio Mi posso svegliare Molto molto presto Se non è strettamente necessario Anche no Nel senso Perché mai Farsi del male Da soli Nessuno di queste uova Ha prodotto Un pulcino Fantastico Le mie galline Sono rotte Cioè posso svegliarmi Tranquillamente Le cinque del mattino O anche le tre e mezzo Del mattino Per dire Non è un problema Tra l'altro Sono anche Il tipo di persona Che non beve il caffè Quindi Sono Sono comunque Bello vigile Sempre Non ho bisogno Di Altre sostanze Per Per stare Bello sveglio E quindi Sì sono Già posso svegliarmi All'ora che voglio Senza Per problemi Non sono un tipo Che dorme tanto Quindi Diciamo che È veramente Difficile Che io mi svegli Dopo Le nove e mezzo Questa sì Nei miei giorni liberi Ovviamente perché Gli altri giorni Nonostante io sia un libero professionista Ho garantito Ho concordato E garantito Determinati orari Col cliente Quindi Sveglio alle otto E attacco alle nove Il bello È che prima Mi svegliavo alle sette E attaccavo alle otto Poi ho detto Sai cosa c'è? Sono un libero professionista E quindi posso Decidere io I miei orari E questo mi fa molto comodo Quindi Perché devo svegliarmi alle sette? Mi sveglio alle otto E inizio a lavorare alle nove Che mi frega Non c'è letteralmente nessuno Che possa impedirmelo Organizzo in maniera autonoma Ai miei orari Poi devo ovviamente Essere intellettualmente onesto E fare un'ora in più Al pomeriggio Questo sì Però Non mi pesa Io non riesco proprio A svegliarmi Sei una persona che beve Molto caffè? Molto spesso caffè? Ma il fatto è che I caffè Una vera e propria dipendenza Io A me non piacciono le dipendenze Quindi cerco di tenermi Più lontano possibile A qualsiasi cosa Che crei dipendenza In generale Cioè Non bevo Non fumo Non mi drogo Non bevo caffè Non faccio niente In sostanza Conduco una vita noiosa Mi piace dire Anche se non è vero Nel senso che Non faccio niente di Discorretto Dal punto di vista Delle Delle dipendenze Ecco Sono dipendenza da nulla Forse un po' Dalla tecnologia Ma questa è Deformazione professionale Proprio Diciamo che me la giustifico così Il caffè è comunque Proprio una brutta roba Dico che è proprio Una dipendenza Perché un sacco di persone Che conosco Senza caffè Hanno proprio Gli effetti collaterali Nel senso Magli testa Allucinanti Emicranie Cose veramente brutte Non vale la pena Cioè Sì per un giorno Non voglio bere caffè Non voglio avere tutto il giorno Mal di testa Che non riesco a connettere il cervello Sto male Se non lo bevo Cioè Ma cos'è? Devo star bene sempre Non dipendente Lavori da casa Ovviamente Certo che sì Sono programmatore Programmatore E libero professionista Vuoi che non lavori da casa? Ovvio che lavoro da casa La figata Se no dove sta? Sto giro Nessun Polletto è nato Posso far Posso già farle riprodurre Di nuovo Vero se Questa con questa Fate nascere roba Neanche sto giro È andata bene Dicevo Non sono una persona No sono una persona Che dorme tanto Caffè una volta ogni tanto Bravissimo Bravissimo Per niente male Continua così Perché non siamo Non siamo in tanti Siamo in tanti E penso che sia un valore aggiunto Comunque Proprio A livello di persona Come essere umano Un valore aggiunto Però il fatto che ti piaccia dormire È più che dignitoso Io Cioè Ogni persona Poi c'ha C'ha Vabbè Se si parla in italiano Ha il proprio modo Di vivere Il proprio metabolismo Un sacco di fattori Il fatto di Di dormire tante ore No Io non sono Una persona che dorme Tantissime ore Quindi Cioè posso permettermi Di dormire anche Boh 4-5 ore E soffresco come una rosa Non Non noti la differenza Rispetto a quando dormo 9 ore Per dire 9-10 ore Poi sì Se sono in quello stato di grazia Di torpore A dire Ho una giornata libera Non ho niente in programma E posso dormire Ma perché no? Cioè nel senso Non è comunque tempo buttato Riposarsi Altra cosa è quando c'hai da fare E hai sonno Quello è brutto invece E dire che per un po' Ho avuto anche problemi Del sonno Effettivamente Devo stare attento A dirlo troppo forte Parlare troppo A tanta voce Però sì Tra gli ovetti Sono noto Per essere Quello che dorme Di meno Sono sempre sveglio Per primo Il mattino C'era il meme Praticamente Una delle prime volte Che ci siamo visti Dopo che Si è trasferita la Ro E ne parlo Perché so che la conosci Io mi sono Mi sono svegliato Sei e mezzo Del mattino Gli altri Sono rimasti A dormire Tipo fino a mezzogiorno Io al 6 e mezzo E al 6 e mezzo L'ho già sveglio Sapevo cosa fare Mi sono messo a lavare i piatti Per dare una mano In casa Comunque perché Sai L'ospitalità Paripagata E niente Quindi è rimasto il meme E io che mi sveglio Presto al mattino Per lavare i piatti Ho sempre fatto ridere Sta cosa Perché Io la ritengo Una cosa Estremamente normale Ma Evidentemente Non è da tutti Allora Ho letto che Se prendi il caffè Di mattina Scusa Di mattina Di pomeriggio Sei Di mattina Di pomeriggio Sei stanchissimo Perché finisce l'effetto E come ogni droga Sei peggio di prima Eh Perché in realtà Non è che ti fa sentire Meno stanco Il caffè Ti fa sentire Di meno Il sonno Che comunque Già hai E in più Ti triggera l'ansia Tipo Quindi ti senti più sveglio Per quello Non tanto perché Sei più sveglio Non lo sei Stai simulando Il fatto di essere Più sveglio Ma non lo sei in realtà Quindi Non conviene Più di tanto Una cosa del genere Il fatto collaterale È quello Per quel motivo Quindi è preferibile Prenderlo nel primo pomeriggio Però Disturbo al sono Fino ai 14 Fino a 14 ore Dall'assunzione Non vale la pena Insomma Normalissima Non sono ironico Normalissima cosa Non so a che punto Del discorso L'hai scritto Quindi non ricordo Cosa ho detto Ah il fatto Dei lavare i piatti Forse Che io Ritengo Normalissimo Beh io Comunque Cioè Cerco di dare Una mano In casa Se una persona Mi ospita Per il weekend Per dire Non me ne sto Con le mani in mano Sul divano A essere servito Riverito Faccio quello che posso Per aiutare È la buona educazione Per me Buona educazione E buon senso Anche È già notte di nuovo Porca miseria Sto mettendo una vita A raccogliersi i semini Non sono ironico Yes sir Non sono ironico Per quanto riguarda Cosa Ah il fatto Che sia normale Non sei ironico Nel dire Normalissimo Ok Sì no Neanche io Io lo ero Giù l'etto C'è una gallina Davanti a me Che ora porterò Il mio Arem di galline Il mio Pollaio Così potranno Darmi tanti ovetti Di autofali Ok Qualcuno Ho fatto Nuovo Dai su Puoi farcela A mollare Ok Ma è l'altro Ne è entrato uno solo Mi sembra Ok Vediamo se ho Le uova Se è 5 Vediamo se ho più 6 Vediamo se ho più fortuna In questo giro 1 2 Oh Finalmente Il pollettino è uscito 1 eh 1 di numero Però va bene Va bene Nella stessa Nel minamento Si sono stato stupido Nel non aver messo Un layer Un layer in più Per fare in modo Di poter salire Da ovunque Dovunque Questo non si è Tolto comunque Solo questo Chissà perché Se come funziona Una questione Dell'acqua Con i blocchi Ok Per fare il 3 semeni Direi di partire da lì Comunque ora di fonte di cibo Ne ho O sia il campo di grano Che La farm di polli Potrò stare più tempo In caverna Senza Puoi risalire Anche se vedo che cala Veramente Lentamente E veramente poco La barra della fame In questa modalità Io mi ricordo che In normal Non era così Cioè Hai fame Ogni 2 secondi In normal L'arcore Sembra di no Siamo a 2 ore E un minuto Di live Però Non ho finito Col campo Cioè se devi andare Che domani Non ti svegli Non ti preoccupare Tranquillo Tanto poi Probabilmente caricherò Sul canale youtube Degli ovetti Questo pod qui E lo puoi comunque Riguardare Sempre qui su twitch Dalla sezione video Se vuoi vedere Com'è andata L'ultima parte Io tanto parlo Lo stesso da solo Anche se non ci sei tu Quindi Non sarà Non sarà più Più noioso Di quanto non lo sia Già adesso Diciamo Sarebbe anche interessante Capire quanto ritardo Ha Ciò che dico Rispetto a quando Lo sento Dormo al mare Ah ma sei in vacanza Vabbè giustamente Se hai 17 anni Non vai a scuola In estate Giusto Giusto che gli studenti Hanno questa cosa magica Dell'estate Che un po' Noi liberi professionisti Abbiamo lo stesso In realtà Dipende da come ci organizziamo Il lavoro Io Se voglio farmi due settimane Di ferie Mi faccio due settimane Di ferie Senza che Deba chiederlo a nessuno Ovviamente mi devo mettere D'accordo col cliente Però Nessuno mi può impedire Di dire No Non farti Ste due settimane Di ferie Nessuno ha l'autorità Per dirlo C'è quello che voglio Sono padrone Di me stesso Sono il capo migliore Che io possa desiderare Tra l'altro Spoiler Spoiler No vabbè Non lo dico Se spoiler Non lo faccio In questa sede Dormo ovunque In realtà Direi anche Meritata Ah sì La vacanza Mi ricordo bene Da studente Quanto era meritata Ci voleva Sappi che Un giorno Se sarai dipendente Non potrai ottenerla In sostanza Però Anche se te la meriti Non te la daranno Lo stesso Daranno due settimane L'anno E non tre mesi Come fai adesso Che sono poi Se conti tutti i ponti Le feste Come andate Eccetera Sono quattro mesi Fai quattro mesi Su dodici Di vacanza Poi vai a lavorare E fai due settimane Il primo approccio Probabilmente È abbastanza traumatico Anche per questo Ho smesso di essere Dipendente Quasi subito Nonostante Il contratto Tempo indeterminato Tra l'altro Sono talmente Capoccione E A favore Del pagamento Delle tasse Che ho fatto poi Portare la società Da Malta All'Italia Io ora anche loro Pagano le tasse in Italia Bravi Non era condizione necessaria Nel senso che Non gliel'ho imposto Nel senso Gli ho detto O spostate le imprese In Italia O O io non lavoro più Qui dentro Non l'ho fatto Sicuramente Però Ho caldamente consigliato Di farlo Visto che Comunque Le persone che possiedono L'impresa Abitano in Italia Non vedo perché Devano avere una società maltese Non italiana Abiti in Italia Spendi tuoi saldi in Italia Fatti tassare in Italia So che la tassazione è maggiore Ma Se non le paghi tu Quelle che non paghi tu Le pago io Quindi Conviene un po' Tutti pagarne di meno E solo pagandoli tutti quanti Arriviamo a pagarle A pagarne tutti quanti Di meno Se non ne pagano di meno Solo alcuni E non è giusto Non studi pomeriggio e sera Non studi pomeriggio e sera Mani avanti Sicuramente sono due impegni diversi Non studi pomeriggio e sera Cosa intendi? Quando lavori Noi siamo tenuti a Aggiornarci continuamente Anche perché Il nostro settore È dinamicissimo Se stai indietro due secondi Sei già fuori mercato Però Anche noi Dopo il lavoro Ci formiamo Sono due tipi diversi Di impegno Molto semplicemente Anche perché Fino a una certa età A voi è obbligatorio A voi Obbligatorio solo Se non hai il cibo in tavola Cioè Nessuno ti obbliga Poi Se vuoi far la fame Puoi farlo Cioè Nessuno ti vieta Di essere un barbone Il barbone ha la sua dignità Fa una scelta di vita Dignitosa Come Come chiunque altro Merita tutto il rispetto Del mondo Non sarò certo io A dire che le persone Non possono fare Le barbone C'è da dire Che è una vita Meno comoda Rispetto ad altri mestieri O altri stili di vita No Eh Mi piacerebbe ammazzarvi Ok Perfetto Quindi ora abbiamo Il nostro bel campo Io metto qui dentro Ho voglia di sprecare Ma si dai Ho voglia di sprecare Un po' di col Ucciniamo Allora Mani avanti Sicuramente Ok Questo l'avevo già letto Sei ore Non te la scordi L'ansia delle verifiche Eh No che non me la scordo La sento ancora L'ansia delle verifiche Posso dire che Il sistema scolastico Rispetto a quello universitario È terrificante Non È proprio Un altro mondo Quando andrai all'università Se vorrai andare all'università Cosa che se non hai le idee chiare No vabbè Non posso Non posso dirlo Dai Non posso sconsigliarti L'università Non sarebbe giusto Vabbè Comunque L'ambiente accademico È molto 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 Diverso Rispetto All'ambiente Scolastico Ad esempio Le verifiche Cioè L'ambiente scolastico È un 24 su 24 Hai L'ansia Di dover fare Un compito sorpresa Un'interrogazione Non programmata Cioè Può letteralmente Succedere qualsiasi cosa Mentre sei uno studente Delle superiori O comunque A scuola A scuola Può succedere sempre Se hai testato Ogni singolo giorno Ogni singolo giorno Ti testano Crea un'ansia assurda Questa roba qua Cioè Non Non ha Non ha molto senso Già concordare Le date Delle interrogazioni Delle verifiche Aiuta A organizzarsi meglio Proprio anche a livello Di Di persona Non Non lo metto in dubbio Secondo me Se uno Ha delle date certe Riesce A sviluppare anche La skill Del sapersi organizzare Da solo I propri compiti I propri Il proprio metodo Di studio Eccetera Eccetera Le verifiche Sono un punto Dolentissimo Certo è Però che Nel momento in cui Vai a fare Dipendente O comunque Lavori In generale Le tue ansie Sono ben altre Non Non si possono Paragonare A quelle Delle verifiche Non ce n'è una Delle due Che sia peggiore Dell'altra Però mi sento Di dire Che Le ansie Del lavoro Non sono Da meno Cioè Di quanto Ti aspetti Nel senso Sì Le verifiche Mettono ansia Il lavoro Anche ogni tanto Magari Non in maniera Così costante Come L'ambiente scolastico Però lo fanno Purtroppo Lo fanno Quindi Aspettati Anche dopo La scuola Di avere Quel tipo Di ansia Allora Non sono riuscito A cucinare Oh Ma è notte fonda Mi ero accorto Di nulla Ero lì Che cucinavo Allora Probabilmente Io Io me le sono Sempre vissute male Potevo essere Molto più sereno Dici le verifiche Le sei sempre vissute male Ma ti capisco Ti capisco Al cento per cento Anch'io mi sono Vissuto sempre male Le verifiche Le interrogazioni Eccetera Eccetera Ma purtroppo Te le fanno Vivere male Non Non c'è altro modo Di dirlo E' proprio Un sistema Che è organizzato Così Organizzato per mettere Una pressione Assurda La scuola italiana E' sbilanciatissima Dal punto di vista Del rapporto Teoria pratica E' ipertrofica Nella teoria E' ipotrofica Nella pratica Quindi Studi tantissimissimissima Teoria Che ti testa Continuamente E fai pochissima Pratica E quindi E' proprio Un sistema Che Boh Per me Da rivedere Da capo Non Non è possibile Che esista Nel 2023 Un sistema Del genere Infatti All'estero Non ce l'hanno All'estero Sono molto più Orientati A ciò Che poi farai Nel mondo Del lavoro Perché Parliamoci chiaro In Italia Tu esci Dal sistema Scuola O dal sistema Università E ti devono Insegnare A lavorare Tu non sai Lavorare Non sai fare niente Quando esci dall'università Hai un botto Di nozioni Hai un Sviluppato Tantissimo La capacità Di Imparare A fare Tutto Cioè Tu qualsiasi cosa Puoi imparare A farla Però Non sai niente Di base Quindi In un sistema Del genere Stai scaricando Tutto il costo Della formazione Sulle imprese E non Sullo stato Su sistema scolastico Paradossalmente Chi ti dovrebbe formare Non ti forma E ti dovrà formare Dattore di lavoro Questo fa spendere Un sacco di soldi Dattore di lavoro Motivo Motivo per cui Poi non Non sono coerenti Gli stipendi Con Cioè Sono un po' Ah ma io posso Portarmi dietro Le mucche Così però Ho altre fence Da qualche parte No Le usate tutte Ok Intanto le porto vicino Poi vediamo Sì Cioè Anche la retribuzione Ne risente Poi del fatto Che tutto il costo Della formazione Di una persona Sia In capo Al datore di lavoro E questo lo dico Da probabilmente Futuro datore di lavoro Avendo una partita IVA Prima o poi Se le cose andranno bene Avrò bisogno Di collaboratori Ma O pago un sacco di soldi Per un lavoratore Già formato Oppure dovrò Accollarmi io Il costo di Di formarlo E quindi Sì Ma le date Bene o male Almeno Almeno da me Le fissano Ma mi piaceva davvero Ma mi piace Oh Dio mio Non so Non so Uno Non so leggere Sono dislessico Due Non so farlo Mentre gioco a Minecraft Quindi Aspetta che porto Di quale mucca E poi dopo Leggo tutto quanto Tu non ti inceppare Lì per cortesia Ehi Ehi Vieni qua Ok Tanto vi porto qua Vediamo Ok Ora Ma le date bene o male Almeno a me Le fissano Ma mi piace davvero procrastinare Fare le tre o le quattro Il giorno stesso Sì anche l'eccessiva teoria Non mi fa impazzire Non ti preoccupare Allora Sono d'accordo Allora Procrastinare E fare le tre o le quattro Il giorno stesso È una skill È una skill che tu stai sviluppando In questo momento La capacità di portare a termine Un progetto Il giorno stesso Quindi Saper rispettare una deadline Disciplinarsi In maniera da Arrivare comunque Alla deadline Senza fare tanto lavoro Prima È una skill Una skill che puoi spendere Anche molto bene Il mondo del lavoro Non volevo mettere Queste ultime due E Quindi sì Stanzialmente Stai Stai facendo una cosa Che ti servirà In futuro Che aiuterà In futuro Non mi piace Che sia qui su bordo Però Cos'è Rendiamolo Un non bordo Così Ok Bucchettine Siete sparpagliate Lì già Ode sono andate le altre La terza Dov'è? Lì Proprio Tutti in direzione È diversa Mi raccomando Tutti inceppi Ma perché si inceppano? Non capisco Dai non vi buggate Dai Su Dai Possibile? Entra anche tu E via Grana una Grana l'altra E si fa il mucchettino Ok Direi che possiamo raccogliere Un po' di grano E poi andare a dormire Allora Allora Si 67 lo prendo Che è più che dignitoso Comunque Riconosco però che quando Che quando studio È tutto più semplice E a volte mi piace proprio anche se non è una materia che amo Ci sta Ci sta Quello poi è tutta attitudine Personale Vario da persona a persona Questa cosa È un bene che ti piace studiare Perché Servirà anche in futuro Se fai uno di quei lavori Nei quali bisogna comunque formarsi Nel tempo Cosa ti piacerebbe fare Giusto questa vera Se vuoi dirla Se hai Qualcosa che ti piacerebbe fare Perché non è detto Non è obbligatorio verlo Ok Beh dai 22 di grano È andata bene Sta andando molto bene Devo dire Questo Questo mondo Hardcore Ho anche uno di grano Avanzato S53 Mi ho 64 Qui da quale parte No Quindi metterò Metà qui Metà nell'inventario Allora Direi che è il tempo Di farsi una nuova cassa Un nuovo paio di casse Anche una casa Sarebbe da fare Prima o poi Però Mi sa nel prossimo episodio Allora Diciamo per ora Viaggio e campo E campo dell'informatica Viaggio e campo Dell'informatica Ah viaggio nel senso tipo Tour Operator Non so se ho capito bene Probabilmente si Per fare l'influencer Di viaggi O proprio Nel mondo delle agenzie Di viaggi Sono comunque due carriere Programmatore Non mi farebbe schifo C'è tanto da studiare Per fare il programmatore Però puoi farlo Adesso ti dirò Un segreto Quando ho iniziato a lavorare Io non Non ero Schillato nel mio lavoro Cioè Non è che avevo Delle competenze particolari Per lavorare Come programmatore Ho imparato facendolo Quindi Se ci sono riuscito io Puoi farcela anche tu Non dico Puoi farcela chiunque Però Puoi farcela sicuramente tu Allora Questo rockhopper Lo mettiamo qua Queste tre E anche questo Non mi sta bene Diciamo qua Mettiamole temporaneamente Allora Dobbiamo di farci Un po' di questo dito Un altro Che è la pala La palata sterra Qui Questo qua Questo qua Questo qua Panini assolutamente La romatton Sì perché non le ho Le pecore qui Al momento Queste le devo lanciare Dopo Bucket Sempre meglio Averlo con me Il letto È necessario Le torce Sono necessarie Questo è bene Averlo con me Ah ce ne avevo Altre cinque pensi In realtà Vabbè Va bene Chicken Me lo tengo con me Anche questo Abbiamo diverse fonti Di cibo Ora Questo è molto bene Questo qua Qui giù Mettiamo i drop Dei mob E qua Mettiamo E adesso Direi di aver sistemato Tutto Dormiamo Mi piacerebbe però Continuare La passione Da producer Uno O no O no Questo sarà un problema Del me del futuro Anzi aspetta che vado A mettere le uova E poi dopo Sarà un problema Del me del futuro Questo Non è nato neanche uno Ok Il me del futuro Dovrà affrontare Il villager Non ora Dunque Dunque Mi piacerebbe Proverle Così Così Sono un po' Meglio organizzate Anche questo Spostarlo qua Mi rodo E non aver qualcosa Qua Quindi potrei Ma si dai Per far così Spada la mano E venguit Allora Viaggio con la mente Nel campo Dell'informatica Ah ok Ok No allora Avevo letto male La frase precedente Il mio ex prof Di informatica Insegnava E faceva DJ set Basi Cosa come Fonico Tecnico Del suono Figo Anche quel Quel campo Lì Ti devono piacere Magari le serate Dal vivo O comunque La musica Proprio Produrre musica Insieme a degli artisti Ti deve piacere Collaborare Con gli artisti Io Sono una persona Molto Quadrata Magari Sono molto Ordinato Lavorare con gli artisti Non è per me Perché gli artisti Sono pazzi Non hanno orari Non si sanno Organizzare Correttamente Sono proprio Delle persone Mediamente Sono persone Un po' fuori Quindi non sono Nella mia comfort zone Con gli artisti Di solito Nonostante Aro sia un artista Io mi trovi bene Con lei Però Di base Non è il genere Di persone Con le quali Passerei Tutto il tempo Nel senso Non riuscirei Ad abitare Con un artista Ad esempio Il fatto che Non abbiano orari Non Non siano Non abbiano Una schedule Una routine Io sono molto Per questo genere Di cose Quindi non Non ci riuscirei Però se Cioè Se ti piace Fare Fare questo genere Di cose Tanta roba Sì Stavo Stavo Pensando Cosa riguardo I producer Però vabbè Pazienza Te lo dico La prossima volta Se Se parteciperai Alla prossima live Allora io ti ricordo Ti ricordo Non vuol dire niente Te lo dico per la prima volta Probabilmente Perché non lo sai Che abbiamo Un Un gruppo discord No scusa Un gruppo discord Ciao Un gruppo Abbiamo anche il canale discord Però abbiamo un gruppo Telegram Per Per gli ovetti Che segnala Ogni volta che Che qualcuno va live Quindi praticamente mai Però Se join il gruppo Telegram Ah sei già sul gruppo Telegram Fantastico Allora lo saprei già Ok Quindi Detto questo È il momento Di quittare Questo gioco E Augurarti Una buona Un buon proseguimento Di serata Probabilmente no Perché hai detto Che andrei a dormire Quindi Direttamente Buona Buonanotte Buonanotte Ah e anche le notifiche Di Twitch Pazzesco Ok Sei proprio Fidelizzato Allora Va bene Alla prossima